Presso l'aula magna della Pontificia Università Urbaniana nella città del Vaticano il direttore artistico della Proloco di Castrovilla di Gerardo Bonifati ha ricevuto il premio internazionale Giuseppe Sciacca, manifestazione a scopo benefico che ogni anno conferisce riconoscimenti a personalità che nella loro vita e nel loro ambito di attività si siano distinte come modello positivo nella società. I nominativi sono stati scelti dalla giuria presieduta da Ninsigne e giurista Giuseppe Santaniello, presidente onorario del Consiglio di Stato. Il direttore artistico è stato premiato dal presidente del Comitato per la Regione Calabria della Fittipi Federazione Italiana Tradizioni Popolari Michele Putrino e dal presidente della Fittipi Benito Ripoli, alla presenza dei cardinali Dario Castrion Iogos e Raffaele Farina. Autorità ecclesiastiche, civili, militari, alti esponenti del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede del Quirinale. L'evento è stato presentato da Savino Zaba, attore e conduttore televisivo per la RAI. Un momento sicuramente carico di emozioni che Bonifati ha voluto condividere con i componenti del gruppo della Proloco che lo hanno accompagnato. Una soddisfazione personale perché chi è designato è Gerardo Bonifati ma è un premio che condivido con tutti gli ragazzi del gruppo folclorico, con tutta la Proloco perché è un premio che appartiene a tutti noi. Le cose importanti che stiamo riuscendo a fare, dove io riesco ad apparire è perché solo e scusamente c'è alle spalle un lavoro di equip, di un'intera associazione che ormai ha approfuso tutti i suoi impegni per realizzare un progetto importante, è quello di recuperare tutte quelle che sono le nozioni, tutte quelle che sono le scoperte legate alla tradizione popolare castrovillarese. E pertanto ovviamente ritengo che questo riconoscimento appartiene ai ragazzi del gruppo, alla Proloco e all'intera città di Castrovilla. E ancora con l'antropologo, il professor Leonardo Lario, con il critico d'arte Gianluigi Trombetti, con il presidente della Proloco Giovanni Amato e ancora con il segretario generale della Proloco Gerry Rubini. Certamente giungeranno anche altri riconoscimenti, perché in un momento in cui pare che tutto taccia rispetto alla cultura di tradizione orale, quando si crea un movimento opportuno perché si rifondi la propria identità quotidianamente, allora questo deve far piacere. È un traguardo ma è soltanto l'ultimo, sicuramente ne avremo molti altri e sempre più importanti. La Proloco per Castrovilla attualmente rappresenta un treno, un locomotore trainante della nostra cultura, almeno quella popolare, che è importantissima perché la nostra società è di origine contadina e sicuramente deve essere di sprone per i giovani. È giusto che gli stiamo vicino, voglio dire, come gruppo, come Proloco, come amici, come parenti, anche perché voglio dire come Proloco ci investe direttamente perché Gerardo è il direttore artistico della Proloco e quindi del gruppo e ovviamente questo riconoscimento che è suo strettamente personale comunque porta una ricaduta anche sul gruppo che sicuramente fa onore sia alla Proloco che al gruppo stesso. Bella la parata finale quando nell'emiciclo dell'aula magna della Pontificio Università Urbaniana sono entrate otto pacchiane con altre tanti cuzzi in tutto lo splendore dei vestiti e hanno cantato alla platea diretti dal maestro Luigi Stabile Rosa Russa, canzone a cui non ho voluto mancare con la sua voce proprio il direttore artistico Gerardo Bonifati. Una ventata di vitalità e entusiasmo è entrata in Vaticano con la premiazione del piccolo Godi McCasland, vincitore assoluto del premio internazionale Giuseppe Sciacca. Codi è un ragazzo di 11 anni che, privato degli arti inferiori dall'età di 15 mesi, è dotato di straordinarie capacità atletiche e umane che gli permettono di gareggiare in numerosi sport compiendo allo stesso tempo attività di supporto psicologico per tante persone nelle medesime condizioni. In considerazione delle sue eccezionali qualità umane, il Ministero della Difesa USA lo ha scelto per dare conforto ai militari sottoposti ad amputazione. Durante la cerimonia sono stati conferiti riconoscimenti e borse di studio in denaro alle famiglie dei militari italiani caduti nelle missioni all'estero.